I cittadini molfettesi non devono avere paura di tornare al mercato e vivere la città. Non ha dubbio il prefetto di Bari Antonio Nunziante che a pochi giorni dall'efferrato omicidio del mercato è arrivato in città per manifestare la presenza dello Stato a tutela della popolazione. Un bisogno di sicurezza quello dei molfettesi cui Nunziante intende rispondere con maggiore presenza delle forze dell'ordine a controllo del territorio. Un impegno che vale però anche per gli altri comuni dell'Internad Barese che vivono situazioni non molto diverse da quella del comune costiero. Noi dobbiamo dare dei segnali forti al cittadini, specialmente in questo momento. Quanto noi più siamo credibili con la realtà, con l'esperienza maturata in altre realtà, più noi abbiamo credibilità. Noi stiamo monitorando tutto, ma questi sono per i 41 comuni. È accaduto quell'omicidio brutto per la modalità come è accaduto e stiamo approfondendo. Mi auguro che vi sia anche una svolta della coscienza delle persone, che è molto importante. È lo Stato che va ad incontrare i cittadini e non il contrario. A volere fortemente questo incontro col prefetto, il sindaco Paola Natalicchio, preoccupata per una possibile recrudescenza di violenza in città, ma fiduciosa nella reazione dello Stato. Sì, è un segnale di prossimità importante che ha voluto darci il prefetto Nunziante. Naturalmente la parola tranquillità è una parola forte. Noi siamo turbati come comunità, rimaniamo turbati a causa dell'omicidio che c'è stato due settimane fa, ma il prefetto ha voluto dimostrarci che c'è una filiera istituzionale, una squadra fatta sia da lui, sia da questo piccolo sindaco, sia dalle forze dell'ordine, ma anche dalle associazioni che oggi erano qui in sala consigliare con noi, che è la vera cintura di sicurezza attorno a questa città. La sicurezza è una cosa che non si costruisce soltanto con le volanti, soltanto con il lavoro preziosissimo delle forze dell'ordine, ma anche scommettendo sulla prevenzione, sulla rete delle scuole, c'erano anche loro oggi, e naturalmente sulla collaborazione fra istituzioni e associazioni. Crediamo in questo modello di sicurezza e crediamo che naturalmente questa sia una città difficile per le sue dimensioni, ma non meno di tante altre città. Io non sono in una situazione diversa da quella di tanti amici sindaci, penso proprio al sindaco di Bitonto. Io ho molta fiducia nel prefetto, ho molta fiducia che mi viene soprattutto dalla sua voglia di toccare con mano i problemi del territorio, di essere presente accanto a noi in prima linea.